La voce ringrazia gli esercenti che hanno aderito alla promozione natalizia Compra la Befana. Riccia e capriccia parrucchiere di Aldomoro, Castiglione dei Pequeli. Abbigliamento nero e brunetta, rompo e bilaccio. Roma 7 abbigliamento. Via Aldomoro, Castiglione dei Pequeli. Distributore IP a Baragazza. MC Agrario, Via del Corso 107 a Lagaro. Lo troviamo all'ex ospedaletto. Papavere e Papere. Piante e fiori via San Lorenzo a Castiglione dei Pequeli. Auguri di buon anno.